Andiamo a fare una cresta chiamata la cresta del Faderborn è la cresta sud del corno rosso macunhaga Allora, dopo circa un'ora siamo al bivacco in Der Balmo del Ki sotto la magnifica pietes del Rosa e la nostra strada mentre Jack innaffia le piante come se non avesse piovuto fino adesso la nostra strada è su di là verso quel cornino può darsi che sia questa qua a destra e la cresta che andiamo a fare è tutta questa che sale qua e dietro di là c'è il corno rosso Prima tappa di salita la croce del Faderborn siamo saliti da qua sotto un sentiero che data le piogge degli ultimi giorni ha una vegetazione quasi paragonabile a una giungla cioè non è da trovare esiste ma è bello sepolto sotto vegetazione varia però non ci si può lamentare della vista si vedono quattro cime del Rosa Nifet Zumstrad Zumstrad du fur nord e la nostra cresta da salire è questa qua attacchiamo la cresta qua primo muretto poi dovrebbe essere un attimino più tranquillo fino lì dietro e poi tutta in cresta fino all'ultimo muretto è un attimino più che 2.880 quasi 2009 ci manca ancora un pezzettino perché la cima è 3.200 ma tra poco dovrebbe esserci l'ultimo pezzo piuttosto e questa cresta è molto 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 bella se ci fosse un po' di vista sarebbe anche più piacevole o no? eh sì, direi però almeno uno non sente l'esposizione grazie a tutti grazie a tutti siamo arrivati nella pianura padana adesso tirerò sugli occhi piede destro sul rosso dopo di lei, prego yes sir allora siamo tornati al bivacco della partenza di stamattina dopo quante ore? 10 ore e mezza e la cresta è una figata sì la cresta è l'ecolme rosso della cresta del sud passaggi carini alternati a degli sfasciumi la discesa però abbiamo avuto qualche problema qualche problema abbiamo visto una via che poi alla fine non si è rivelata quella giusta invece che scendere direttamente dalla cresta abbiamo travanato quindi se qualcuno lo vuole fare è meglio scendere dalla cresta da cui siete saliti e magari nei pezzi un po' più duri vai giù sul... cioè tipo potresti andare giù sul... a girare i pezzi duri andando proprio scendendo alla cresta perché tanto arrivi sul... sul pianuro, sul nevaio e poi risali sul... cioè sono una fattiglia siamo ai piedi della ester rosa che adesso è coperta però la vista è spettacolare è buono è buono